Ostigart qui un po' si addormenta, si fa sorprendere da Rodriguez, allora Balotelli arriva, direi che il fallo di Meret c'è tutto e Camplone fischia il calcio di rigore per la Dana Demir Spor le mani di Meret sulle gambe di Mario Balotelli e va lui stesso ad incaricarsi adesso della battuta del calcio di rigore